Il 5 è il pensatore, osservatore anche, pensatore, ed è considerato un po' l'eremita. Che cosa fa il 5? Il 5 è un misantropo, ma perché si protegge, si apparta, perché ha paura di perdere energia. Quando si dice che il suo peccato è l'avarizia, non è l'avarizia della moneta, è l'avarizia di se stesso. Non sente la necessità di condividere anche quello che studia, perché gli sembra che il contatto con l'altro lo possa depauperare di quel poco di energia che ha. È una persona che si apparta e accumula. Di solito tra di loro ci sono grosse menti che riescono. L'obiettivo di crescita di questo eneatipo è la generosità, ovviamente, ma quella vera.